Nei video in stile top 10 mostri preistorici che fortunatamente sono estinti, il titanoboa non manca mai. Questo serpentone è uno degli animali preistorici più mitizzati in assoluto, ma quanto ne sappiamo davvero di lui? Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video, dove si parla di una bestiaccia molto molto famosa, ma che purtroppo spesso viene mitizzata, come dicevo, in modo fastidioso, ovvero titanoboa. Se non lo conoscete sono onorato di parlarvene io per la prima volta, dato che sono un animale interessante. Allora, i serpenti più grandi di oggi vivono nelle zone tropicali di Asia e Sud America. Qui le alte temperature favoriscono, pare, l'evoluzione di grandi dimensioni corporee tra gli animali, la cui temperatura corporea dipende dalle temperature ambientali, i cosiddetti animali a sangue freddo. Che è un termine improprio, perché in realtà se si scaldano non hanno per niente il sangue freddo, raggiungono temperature in realtà pari alle nostre anche. Il termine più corretto per questi animali, con questo metabolismo, è pesci loterni, non a sangue freddo. Quali sono i serpenti più grossi del mondo? Allora, prendiamo dati alla mano. Si considera appunto un articolo pubblicato nel 2020 da John Murphy. Qui, gli unici due serpenti che l'autore considera giganti sono l'anaconda verde, è un Hectes murinus del Sud America, e il pitone reticolato, un Malaio pitone reticulatus, asiatico. Il più grosso esemplare di anaconda verde mai registrato ufficialmente, era il 1924, era lungo 6,7 metri e pesante 200 chili. Infatti l'anaconda verde è il serpente più pesante del mondo, ma non il più lungo. Infatti, il pitone reticolato più lungo mai misurato pesava, sì, 158 chili, ma era lungo 7,9 metri. L'esemplare era un individuo tenuto in cattività alla New York Zoological Society. Secondo il Guinness dei primati, tra l'altro l'anaconda è la specie, soggetta alle esagerazioni di dimensioni più estreme di qualsiasi altra specie. Racconti di anaconda di mostruose dimensioni sono molto diffusi, ma al momento non c'è alcuna traccia di esemplari lunghi 10 metri o più, come a volte si sente dire. Vi rimando, in questo senso, al video che ha fatto il buon Lorenzo Rossi sui racconti di serpenti giganti, ve lo lascio nella handcard. Ciò non toglie che in passato, in alcuni periodi, siano vissuti dei serpenti di dimensioni ancora maggiori, il più famoso dei quali è Titano Boa, il serpente più grande mai esistito, per quanto ne sappiamo. Prima ovviamente di raccontarvi tutte le sue marachelle, vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanella se non l'avete già fatto, così non vi perdete niente e ovviamente seguitemi anche su Instagram, Twitch, Spotify e il secondo canale, trovate tutto in descrizione. Nel 2009 viene pubblicata da Head e colleghi la descrizione di alcuni resti fossili provenienti dalla formazione di Ferrejon in Colombia, precisamente da una miniera di carbone situata presso la Puente e questi resti risalgono ad un periodo compreso tra 58 e 60 milioni di anni fa, vale a dire al Paleocene, il periodo immediatamente successivo al Cretaceo. Per contestualizzare, a questo punto i dinosauri non aviani si erano estinti da circa 5 milioni di anni, che geologicamente parlando è tipo l'altro ieri. Le ossa in questione sono principalmente vertebre, provenienti da 28 individui diversi. Tra questi resti ci sono tra l'altro le vertebre più grosse, note tra i serpenti allo stato fossile. La taglia del corpo può essere stimata dalla grandezza delle vertebre, infatti negli animali, in cui la lunghezza del corpo è aumentata per via dell'aumento delle dimensioni delle singole vertebre, invece che a causa dell'aumento del loro numero. E questo è vero per tutti i boidi esistenti e per i pitonidi. Titano boa fa parte della famiglia dei boidi, più precisamente della sottofamiglia dei boidi, assieme, per esempio, al boa constrictor, suo cugino ancora oggi vivente. I serpenti di questo tipo sono stati il miglior riferimento a livello di proporzioni per farsi un'idea su come fosse sto serpentone estinto. Infatti, tutti se lo staranno chiedendo, quanto era grosso? Allora, gli autori stimano un peso di 1135 kg e una lunghezza di 13 metri, circa. Il che ne fa il più grosso serpente di cui abbiamo notizia. E anche il più grosso vertebrato non marino del periodo in cui è vissuto. E questa cosa ha, diciamo, sbaragliato qualsiasi altro record di lunghezza in qualsiasi altro serpente fossile precedentemente noto. Non a caso, il suo nome scientifico è Titanoboa chereconensis, che significa boa titanico di ferrecon. Grazie a questo studio abbiamo capito qualcosina in più sugli ecosistemi tropicali del passato e il rapporto tra il clima e l'evoluzione dei serpenti. Tendenzialmente la massima taglia raggiungibile dagli animali pescilotermi ad una certa temperatura è limitata dal loro tasso metabolico. E per un serpente di questa taglia, per sopravvivere, c'era bisogno, si calcola, di una temperatura media annuale minima compresa fra 30 e 34 gradi. E questa stima in effetti è coerente con le stime sulle temperature neotropicali fatte per questo periodo. C'era infatti un alto tasso di anidride carbonica nell'aria. C'era una situazione di effetto serra in questo periodo che per certi versi, dicono gli autori, ricordava la situazione di oggi, con la differenza che nel Paleocene non era colpa di un particolare primate glabro. Ma vabbè. Per questo serpente si ipotizza uno stile di vita molto simile a quello dell'anaconda di oggi, per cui un serpente a cui l'acqua pare piacesse parecchio. L'ambiente deposizionale dei sedimenti in cui sono stati rinvenuti i suoi fossili corrispondeva al tempo, infatti ad una pianura costiera che ospitava una foresta tropicale umida incisa da un sistema fluviale di corsi d'acqua anche abbastanza ampi. Che si mangiava? I resti del Titanoboa erano associati infatti anche a resti di fauna acquatica vertebrata, come per esempio tartarughe della famiglia dei podocnemididi, famiglia appunto ancora oggi presente, dirosauridi, che sono appunto dei crocodiliformi, quindi estinti cugini dei coccodrilli veri e propri, nonché pesci come i dipnoi, detti anche volgarmente famosi pesci polmonati e altri tipi di pesci ossei. Si ipotizza che si nutrisse di crocodiliformi vari, esattamente come l'anaconda di oggi si nutre anche di caimani. Poco dopo la pubblicazione della descrizione, sempre su Nature, vengono pubblicati dei commenti all'articolo riguardo la parte relativa al legame tra dimensioni e temperatura. Nella prima comunicazione, Snyderman applica lo stesso paragone tra dimensioni e temperatura che hanno usato con l'anaconda e il titanoboa, ma usando come termini il varano di Komodo e l'estinta megalania, una sua parente più grande, per vedere se il modello valga anche per stimare le dimensioni dei varani. Viene fuori che in teoria la megalania era troppo grande per la temperatura dell'ambiente in cui viveva, secondo questi calcoli, e che i varani di Komodo dovrebbero tra l'altro essere più grandi di quello che sono, stando appunto alle temperature in cui vivono oggi. Secondo lui, il fatto che oggi non ci siano rettili così grandi non è dovuto ad un impedimento da parte del clima, semmai alla competizione con i mammiferi per la nicchia dei grandi predatori. La seconda comunicazione è di Macarieva e colleghi. Nello studio in cui si descrive il titanoboa viene proposto come metodo per le ricostruzioni paleoclimatiche un approccio teorico che collega le grandi dimensioni alla temperatura dell'ambiente in gruppi di animali pescilotermi. E quindi sì, sono usate le dimensioni del serpentone per stimare la temperatura. Quando si va ad usare metodi matematici per calcolare la temperatura in base alle dimensioni, viene fuori che la temperatura media della zona tropicale, al tempo in cui questo serpente viveva, doveva essere tra 1.9 e 3.7 gradi più calda della zona neotropicale di oggi. Quindi dai, ok, sono d'accordo con le interpretazioni dello studio, però propongono una correzione delle temperature stimate che dovevano essere un po' più basse. L'ultima comunicazione di Denny e colleghi non è invece d'accordo con l'utilizzare titanoboa come un accurato paleotermometro. Secondo i loro calcoli, anche dopo essersi srotolato per favorire la dispersione di calore, la temperatura corporea del titanoboa resterebbe comunque 0,5 gradi sopra quella dell'ambiente, per via della sua grande massa che disperde il calore più lentamente. Al contrario, in un'anaconda, se arrotolata, l'incremento di temperatura sarebbe meno della metà di quello che succederebbe nella stessa situazione a Titanoboa, che pare avrebbe potuto regolare la sua temperatura corporea variando la postura in misura molto maggiore rispetto a quanto potrebbero fare i serpenti esistenti, quindi riuscendo a cambiare il suo rapporto con la temperatura dell'aria del suo ambiente. Gli autori sotto rispondono alle comunicazioni. Secondo loro, i dati contrastanti riguardo i varani indicano una relazione complessa tra le dimensioni e l'ambiente nei varani, e non una falla nel loro metodo di calcolo. Allo stesso modo, le nuove analisi legate alle differenze di taglia tra anaconda e Titanoboa non falsificano il loro metodo di calcolo della temperatura, e poi abbassano la stima della temperatura da un range di 30-34 gradi a un range di 28-31 gradi, un po' più basso, dicendo che comunque, indipendentemente da quale sia la scala metabolica appropriata da utilizzare, le implicazioni paleoclimatiche legate all'ipotesi che le latitudini equatoriali fossero molto più calde 60 milioni di anni fa restano le stesse. Nel 2011 l'articolo originale viene anche corretto, aggiornando un'equazione usata dagli autori e correggendo un paio di dati. Il 22 marzo 2012 una replica in scala reale di un Titanoboa è stata esposta alla stazione di Grand Central Terminal di Midtown Manhattan a New York per promuovere un programma televisivo su Smithsonian Channel chiamato Titanoboa Monster Snake, andato in onda il 1 aprile 2012. Nel documentario, ad un certo punto, un Titanoboa stritola un tirannosauro. Perché sì? La scultura ha richiesto 5 mesi di lavoro da parte dello scultore Kevin Hockley, che ha rappresentato il Titanoboa con in bocca un tirannosauro, mentre lo ingoia utilizzando la gravità per favorire l'inghiottimento. Nel meeting della Society of Vertebrate Paleontology del 2013 compare un contributo di Head e colleghi che analizzano materiale proveniente dal cranio di Titanoboa, aggiungendo qualche tassello interessante. Partono dicendo che le stime per le dimensioni fatte durante la descrizione, come le considerazioni sulla sua classificazione all'interno del gruppo dei serpenti, sarebbero state più sicure se avessero avuto ovviamente il cranio. Fortunatamente nelle nuove spedizioni si sono recuperate diversi nuovi esemplari di Titanoboa che comprendevano, tra le altre cose, varie ossa del cranio, come mascellare, palatino, pterigoide, quadrato, dentale, eccetera, e anche ossa della mandibola. Sulla base di questi resti stimano una lunghezza del cranio di 40 centimetri, per arrivare ad una lunghezza totale del corpo di più di 14 metri, quindi aumentando la stima precedente, e ciò in base alla relazione tra la lunghezza della testa e la lunghezza del corpo nell'anaconda. Questi elementi del cranio confermano la classificazione di Titanoboa nella sottofamiglia dei boini, in particolar modo i suoi cugini, più vicini, oggi viventi, sembrano essere quelli che vivono nelle isole del Pacifico e del Madagascar. Il cranio di Titanoboa mostra, tra le altre cose, caratteristiche uniche rispetto ad altri boidi che in altri serpenti sono associate alla dieta piscivora, cioè appunto a una dieta che si basa sul consumo di pesce. Perciò, tenendo conto dell'ambiente in cui viveva, viene suggerita un'alimentazione prevalentemente piscivora, che a livello ecologico lo rende un caso unico tra i boidi, sia viventi che fossili. Nello stesso meeting, ma l'anno dopo, 2014, c'è stato un poster di Verning e colleghi in cui si cercava di analizzare il modo in cui questo serpentone cresceva e la sua longevità, basandosi ovviamente sull'analisi delle sue ossa. Hanno comparato a livello istologico, quindi a livello nuovo di tessuto, le coste del Titanoboa con quelle dei pitoni reticolati, e hanno visto che a livello istologico adulti e giovani Titanoboa erano molto simili. Base all'aspetto delle linee di crescita, ci sta che potessero raggiungere i 60 anni di età. L'analisi di queste ossa con la luce polarizzata ha rivelato altri dettagli. Molto probabilmente il Titanoboa raggiungeva grandi dimensioni aumentando sia il tasso di crescita, sia la durata del periodo in cui cresceva. Un pattern diverso da quello che si vede ad esempio nei coccodrilli, che raggiungono e raggiungevano grandi dimensioni aumentando solo la durata del periodo di crescita. Ovviamente parlando a livello evolutivo di selezione, non che loro decidevano, ah, oggi cresco di più. Due tesi di ricerca della University of British Columbia sono interessanti. Nella prima del 2012, Amna Ratore, spero di averlo detto bene, non lo so, propone appunto un progetto con Titanoboa. Laddove Titanoboa è un serpente robot di 15 metri telecomandato, capace di muoversi in 5 differenti modalità. Roba che gignicco, spostati, madonna che ficata. Il robot era parte di un progetto portato avanti da Charlie Brinson nel 2011, che con il suo team ha costruito una bestia di una tonnellata e dal costo di 70.000 dollari. Lo scopo del progetto è educativo. Siccome Titanoboa, quello vero, si è estinto a causa dei cambiamenti climatici, questo robot è stato costruito per invogliare la discussione attorno al nostro utilizzo di energia quotidiano e riguardo il riscaldamento globale a livello storico. In pratica, in questa tesi si è visto quanto costa il fabbisogno energetico di questo robot, quanto si spende per ricaricarlo, per trasportarlo in giro, quanto consuma muovendosi, eccetera. È insomma un modo per educare alla Carbon Footprint, che è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas a serra causate da un prodotto, un servizio, un'organizzazione, un evento o un individuo. Il secondo scritto che dicevo è dell'anno dopo, scritto da Romy Rajvir Yutti, anche lì spero di averlo detto bene, ed il protagonista è ancora Titanoboa, il robot, naturalmente. Lo scopo della sua ricerca è quella di offrire maggiori approfondimenti sul legame tra arte, educazione ambientale e cambio del comportamento, attraverso appunto l'indagine sul ruolo che ha l'arte nella lotta al cambiamento climatico di origine umana. Pazzesco. In particolare si indaga su quanto possa essere efficace, in questo senso, il serpentone robottone. E pare che nonostante l'idea figa e i costi ambientali del robot molto bassi, purtroppo siano bassi anche i benefici di questa iniziativa. Infatti Titanoboa non sembra aver cambiato il comportamento a livello ambientale di chi ci ha avuto a che fare, però potrebbe, si dice, migliorare gestendo meglio il progetto a livello di social e incoraggiando di più le persone. Perché, dicono, se da una parte non è facile far cambiare il comportamento di chi guarda, è anche vero che l'utilizzo di strategie non convenzionali a livello di social può avere il suo effetto. Ed un serpente robot di 15 metri è abbastanza non convenzionale. Ecco, c'è anche una sella per cavalcarlo, tipo, ah, bellissimo. A parte questo, che ci crediate o no, non c'è molto altro su Titanoboa. Come avrete visto, e questo mi premeva molto farvelo notare, le pubblicazioni vere e proprie che l'hanno studiato sono pochissime. Anche le ultime cose sul robot, sì, erano carine, ma non riguardavano studi sull'animale vero e proprio. Non è che si sappia molto altro di questa bestia. Eppure, solo per il fatto di essere un serpente gigante, ha avuto un'esposizione mediatica clamorosa. Improvvisamente ha dato, nella mente di molti, un alone di verosimilità ai racconti fantastici riguardo serpenti giganti che ribaltavano canoe, parcheggiavano in doppia fila, eccetera. Fermo restando che, ripeto, non ci sono Titanoboa sopravvissuti, né serpenti oggi viventi che ne guaglino le dimensioni, quindi sono solo storie. Il Titanoboa è uno di quegli animali preistorici, tipo il tirannosauro e il megalodonte, il cui status di animale trascende fino a raggiungere quello di mostro mitologico. A me personalmente non interessa considerare gli animali come mostri e chiedersi chi vincerebbe contro chi, chi è il più grosso, eccetera. Mi interessa considerarli come animali, in soldoni, facendo divulgazioni. Questo ve l'ho spiegato, ovviamente, anche nel video sul tirannosauro e sul megalodonte, che ovviamente vi lascio nella endcard se ve li volete recuperare. Poi che c'entra? Si può scherzare, si può parlare così per fare, ok? Ci sta tutto, però quando poi si fa una cosa un pochino più seria, ecco, lasciamo da parte i sensazionalismi e prendiamo gli animali per quello che sono, ovvero animali. Poi, oh, parliamoci chiaro, ogni tanto un triceratopo con le motoseglie al posto dei bracci e spara laser dalle corna, ci sta, però, insomma. Se volete sostenere la mia attività di divulgazione e incoraggiarmi ancora a parlare di bestie preistoriche cazzute, allora, beh, diciamo che in descrizione trovate il link a Patreon, diventate anche voi un mangiafoglie sciamante per avere accesso al gruppo Telegram dei Patrons e ad un sacco di altra roba. Dateci un'occhiata. Se volete sostenermi c'è anche la wishlist con cui posso arricchire i contenuti del canale, grazie appunto a chi l'ha già utilizzata. Il libro consigliato di oggi è Un Fumetto, ovvero Il Giovane Darwin, edito da Thunue. Una rivisitazione in chiave fumettosa del viaggio di Darwin a bordo del Beagle. Molto, molto carino, ovviamente si prende qualche libertà a livello narrativo, ma comunque ve lo consiglio. Trovate il link per reperirlo in descrizione, assieme a tutti i vari consigli di lettura che vi do. Ovviamente Natale si avvicina, quindi se volete fare un regalo, beh, che dire. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per il mio merchandise ufficiale, con appunto anche il codice sconto, i modellini di animali preistorici stampati in 3D che curo come consulente, anche lì col codice sconto, e c'è anche il calendario universale stampabile in digitale che ho fatto con la mitica Max Rambaldi, anche lì trovate tutto in descrizione. E ora, naturalmente, fatemi sapere se avete apprezzato il video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace e spammatelo ai 420. Iscrivetevi ovviamente e attivate la campanella se non l'avete già fatto, e seguitemi su Twitch, Instagram, Spotify, secondo canale, insomma dovunque. Trovate tutto in descrizione, apritela quella dannata descrizione. Grazie per essere arrivati sin qua e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!